Ti serve la leva? Sì Ti serve la leva? Sì Quando sei stanco di 9 minuti Non so, per la sicurezza Perché se ci partiva No, 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 perché è giovane, è sempre di peso No, ma quella fare lì ha un ventamento E adesso la fase crimine Cosa volevi fare? No, è questo che volevo Cioè Vai, vai, si appena appena la gira C'è lo spazio fisico? Vai, vai Tira, tira Sì, lo spazio fisico c'è Questa che punta No, no, no No, no, noi facciamo solo Ander a contrattare Ok Ho appuntato sulle somme, no? Sì Sai che c'è quasi Vai, vai Vai piano, eh C'è? Quasi Vai piano, eh Ok Ma ce l'avete messo a freno Adesso la mola un pochino Freno a cosa Ok Grazie a tutti.